Aumentano gli episodi di violenza, sia fisica che verbale, che vedono come vittime medici o infermieri all'interno degli ospedali. Secondo un'indagine della Società Italiana di Medicina di Emergenza Urgenza, dal 1 marzo al 30 aprile 2017, in due pronto soccorsi su tre si è infatti verificata almeno un'aggressione fisica. Dati insessibile aumento quest'anno, sempre secondo l'analisi. Episodi che sono stati registrati anche nella marca. L'Ulso 2 ha deciso di correre di pari con una serie di misure. La prima è un corso di formazione che dovremmo fare i nostri operatori. Per quanto riguarda il pronto soccorso, in particolare quello di Treviso, dove ci sono stati già casi di aggressioni o simili aggressioni, potenziare la presenza delle forze dell'ordine. E poi un incremento del sistema di videosorveglianza, sempre nel pieno rispetto della privacy dei pazienti. Vengono messe nelle aree comuni, quindi nell'area del pronto soccorso, all'esterno delle sedi delle guardie mediche, quando uno suona o bussa può essere individuato e quindi ondevitare l'aggressività, e invece nella psichiatria sostanzialmente garantendo la presenza sempre di due operatori. Intanto l'Ulso 4 Veneto Orientale ha avviato una sperimentazione di sei mesi con la dotazione al personale ospedaliero di 200 fischietti contro le aggressioni, un'iniziativa che il direttore Benazzi dice che potrebbe essere adottata anche a Treviso. Deve essere prima portata ai tavoli sindacali sia delle organizzazioni mediche, quindi della dirigenza, sia l'organizzazione del comparto, perché qualsiasi tipo di introduzione di metodi o eccetera deve essere concertata a livello dei tavoli sindacali.